Ehi là, bentrovati! So che state già pensando al Natale, al menù di Natale. Ecco, se volete un'idea per servire la frutta, ve la do io. Un bel vassoio di frutta fresca, già sbucciata e pronta per essere gustata. Guardate quanto è veloce da preparare e poi ci vediamo alla fine. Grazie a tutti! Fate largo al coltello più veloce del West. Grazie a tutti! Lo volete un trucchetto per risparmiare tempo? Allora, tagliate la frutta il giorno prima e tenetela in una scatola chiusa in frigo. Già finito! Vi avevo detto che era veloce. Potete servire questo vassoio sia in tavola che in un buffet. Io ho usato un bel piatto, un bel vassoio di melamina verde a forma di foglia, così da avere una combinazione di verde, bianco e rosso che funziona sempre. In alternativa potete usare un piatto natalizio oppure un piatto bianco e mettere intorno dei rametti di pino, di abete, meglio l'abete che fa sempre Natale. Allora, grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!